Ciao Romè e Giulietta, allora com'è andata questa gara di qualificazione? E' andata molto bene, pensavamo di essere agitati, di sentirci in un ambiente completamente nuovo, ma invece ci siamo sentiti a nostro agio, nonostante il palazzetto sia allestito in modo completamente diverso rispetto alle nostre gare. Comunque siamo saliti tranquilli, consapevoli delle nostre capacità, abbiamo svolto il nostro esercizio molto bene, con un piccolo margine di miglioramento sicuramente per la finale e quindi è andata molto bene. Mi raccomando, occhio alla Romania, cercate di tenerla dietro anche domenica. Sono dietro di noi di mezzo decimo, noi non li abbiamo visti, però sono anche loro agguerriti, cercheranno anche loro l'oro e noi ci impegneremo come abbiamo fatto ieri e cercheremo di restare in questa posizione. Michele e Davide, quanto vi siete allenati per diventare la coppia da battere? Non avendo il centro tecnico permanente ci alleniamo nelle nostre società, quindi siamo io a Legnano, lui a Vimercate e ci alleniamo tutti i giorni almeno tre ore, poi nei weekend, se è possibile, ci troviamo e lavoriamo insieme mattina e pomeriggio. Se no, almeno due o tre volte al mese ci vediamo a Latina, al centro federale e lì ci alleniamo tutti insieme. Davide, ma adesso ti impegni anche con noi, col gruppo? Ora Michele la lasciamo in panchina, che facciamo? Anche nel gruppo punteremo sicuramente alla finale, anche lì non sappiamo bene come siamo messi, cioè sappiamo le nostre potenzialità, ma non ci siamo ancora bene confrontati con questo nuovo esercizio, con gli altri paesi e quindi domani si capirà un po' come sarà la situazione e comunque anche con questo esercizio vorremmo puntare una medaglia. Michela, che cosa rappresenta questa partecipazione dell'aerobica a Bago 2015? Non siamo ancora a disciplina olimpica e questo ci sembra un grande passo verso l'entrare a far parte delle Olimpiadi. L'ambiente è totalmente nuovo, emozionante e noi ci sentiamo veramente fieri di essere qua, di partecipare e di rappresentare l'Italia. Davide, quali sono oltre all'aerobica gli altri sport che andresti a vedere qui a Bago? A vedere, perché siamo primi in qualificazione, ci servi per domenica. Vabbè, oltre all'aerobica mi piacciono molto le altre discipline della ginnastica, infatti ad esempio oggi siamo venuti a vedere la finale all-around maschile-femminile e poi mi piacciono molto i tuffi e se ci sarà la possibilità quando sarà finita la nostra gara spero di avere quella mezza giornata per poter andare a vedere una delle loro gare.